Allora visto che lui mi ha detto che non sono abbastanza carico, bella raga benvenuti in questo nuovo video, porca p***a Siamo qua con Noisy Boya Desi Ciao E stiamo andando a casa di Eddie Yanno per fare un girozzo in moto Praticamente oggi andiamo a farci il passo Zambla, così si chiama E tra l'altro per me è la seconda volta che ci vado, è la prima, è successa una cosa abbastanza particolare Che ha già fatto il giro di tutti i social network Poiché ci ho fatto un meme abbastanza divertente ma un pochino inadeguato diciamo Allora regà scusate se non c'entra un c***o col gruppo Ma p***a le donne devono capire che devono stare a casa, le donne non devono guidare P***a mi è piaciuto davvero tanto p***a Una gentile signora con un Porsche Cayenne pensava di avere a disposizione tutte e due le corsie Invece non era così, diciamo che stavo per fare un frontalino Non so se avrò fatto tipo un video clickbait Però nel dubbio vi metto quella clip o al massimo ci sarà anche un altro video sul mio canale in cui ne parlerò Lo sapevo che avrebbe impennato anche lui Oggi mi fa Che stile grenz che avete Non è proprio il mio stile quello dell'impennato Che ma oggi io lo contagerò Me lo sento che lo contagerò Tra l'altro oggi ho fatto miscela con l'olio e la fragola Per cui teoricamente dovrebbero sentirsi Gli aromi di fragola Però giustamente se voi state guardando il video Perché ve lo dico e tanto non sentite nulla? Perché ho dei problemi Giustamente I problemi li ho sbucciativi se la persona ammende Quanto è bello Io nel frattempo sento un MT-09 molto rabbiosa dietro di me Mi mette molto molto ansia Inizia a sentirsi la fragola Hai presente Fra? I polaretti È quello È quello Fra Sai che se la perdi Facciamo due milioni di views Oggi Ti contagio con il Grenz Style Allora Desi è comoda Allacciani quei lacci lì che fanno una paura Il mio povero cuore La menti io sto male se li vedo Mamma mia se sto male Basta Ma quale c***o è il tasto? Perché te l'ho detto poi? C***o nella testa Comunque Fra È stato il karma che ha agito contro di te Adesso ci siamo trovati con Edo e Mola Bella Fra Poi qualcuno mi spiegherà perché Bergamo è così pieno di f... Vabbè ragazzi ci vediamo quando siamo vicini a Selvino Bella Sì Sì Siamo quasi arrivati nella strada Giusto? Boh Non lo so Sì Fra Coso ha cambiato la batteria Coso tua sorella Cosa è un'altra Cosa è un'altra Cosa è un'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.